Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07 Siamo qui per vedere chi è il peggiore di Torino-Juventus 2-2 Ennesimo risultato negativo per la Juventus Negli ultimi risultati stiamo veramente arrancando Negli ultimi tempi pareggio col Verona, sconfitta col Napoli Uscita col Champions col Porto con la sconfitta all'andata Sconfitta col Benevento Una Juve che non si riesce a risanare Non mi fate incazzare e partiamo subito col video che è meglio 5 per Scesni sarebbe stato un 4 e mezzo se non avesse fatto quelle bellissime Parate alla fine, alla fine il suo lavoro è stato un lavoro sempre sottovalutato Alla fine un portiere, una paparella ogni tanto la può fare Stanno iniziando però a diventare tante le partite steccate da Scesni Che non mi trasmette più quella sicurezza che mi trasmetteva fino a 2-3 mesi fa ragazzi Quindi insomma sicuramente non è lui il primo della Juve Sicuramente non è per colpa sua, soltanto per colpa sua che abbiamo presso la partita di ieri Però insomma un 5 se lo porta a casa Probabilmente la peggior partita dell'anno 6 e mezzo per Chiellini che non credo sarà mai un problema per questa Juve Un Juve che numericamente, lo dico sempre ragazzi Numericamente mi sta veramente male tra infortuni e tutto Quindi rescindere il contratto di Chiellini per andare a spendere 20, 10, 12 milioni su un altro difensore Mi sembra veramente utopia Alla fine 20 partiti in un anno te le puoi giocare ok Che è sempre rotto però finora da qui alla fine dell'anno Credo che alla soglia di 20 partiti ci arriverà senza problemi il buon Giorgio Chiellini ragazzi Quindi così male la situazione per lui non la vedo 6 per De Ligt che ieri non mi è piaciuto tanto nella marcatura con Belotti Diciamo che le ha date e le ha prese con il buon Gallo Vabbè sul primo gol forse ha qualche responsabilità Perché sicuramente lo sbaglio non è principalmente il suo ma è di Kulusevski Però lui secondo me poteva fare un qualcosa di più Da solito De Ligt mi aspetto qualcosa di più Per il resto non voglio dargli un'insufficienza Perché comunque per il resto della partita Se è in fase di impostazione che è in fase di difesa è praticamente perfetto 5 per Alessandro sbogliato come sempre È vero che ha salvato un gol facendo muro praticamente sul Rincon Però per il resto ha responsabilità sul primo, sul secondo gol Sulle giocate offensive si perde spesso il pallone Fa giocate troppo prevedibili Ragazzi ormai io preferisco mettere Frabotta Che sicuramente è meno forte di lui Però dato che Alessandro è praticamente lo stesso da 4 anni Anzi secondo me ha addirittura peggiorato con l'andare del tempo Sta veramente facendo cagate su cagate Quindi a questo punto il suo tempo alla Juve per me è finito Per vi riscomonetizzarci su 6 per Quadrado Quadrado che si sta dimostrando comunque un bel terzino destro Però diventa un po' troppo irruento in difesa Ieri poteva prendere veramente rosso con quell'intervento ragazzi Per il resto li do 6 perché in fase di attacco è sempre prezioso Lui può giocare sia da terzino che da esterno Ricordiamo sempre questo ragazzi Lui può giocare sia da terzino che da esterno Gioca meglio quando sta Daniele dietro di lui Che ieri era in mediana alla fine si limita a fare il compitino Certamente la mediana non è il suo ruolo Però certo è che a fare meglio di Bentancur Bentancur, Rahams e Rabiot non è che ci voglia tanto Anche se Rabiot sinceramente ultimamente sta anche giocando benino Aveva bisogno di un riposo Rabiot dopo troppe troppe partite giocate di fila Ha giocato benissimo anche con la nazionale Aveva bisogno di riposo Rabiot Giusto mettere lui in mediana che comunque il compitino lo sa fare Non è che abbiamo perso perché abbiamo messo Danilo Mediano Ho pareggiato perché mi è stato Danilo Mediano Perché alla fine ieri il centrocampo ha fatto anche un discreto lavoro In fase di 4-4-2 Non capisco perché Pirlo non passi al 4-3-3 Perché secondo me con l'acquisto di un ulteriore centrocampista Può farcela senza dubbio a passare al 4-3-3 Quindi un 6 più per Bentancur Che sicuramente ha fatto una delle sue prestazioni migliori sinceramente Ieri sia in fase di impostazione sia in fase offensiva Ieri ho visto veramente veramente bene Bentancur Con una grande sorpresa Quanto a Kulusevski Prima aveva l'attenuante che doveva giocare Non doveva giocare esterno Ma doveva giocare punta Seconda punta dietro Ronaldo Ma doveva giocare esterno Anche se lui la metà dei gol che ha fatto Ragazzi li ha fatti tra seconda punta Quindi la metà dei bonus tra quelle assist Li ha fatti tra seconda punta Ora che gioca esterno Sì ho due volte che fa questo errore Quindi dopo quello con la Lazio Veramente non capisco cosa ci faccia così Kulusevski 7 invece per Chiesa Man of the match Quante volte abbiamo visto questa copertina ragazzi Chiesa man of the match Chiesa man of the match Chiesa è il migliore del match Ragazzi che gioca a destra Che gioca a sinistra La grinta che mette lui Se ce la mettono in pochi In una squadra senza gioco Senza niente Perché ragazzi sinceramente non vedo gioco Chiesa si fa man of the match Si porta la Juve sulle spalle E salva la Juve Solo ieri ha fatto un paio di giocate offensive Che ha messo in difficoltà il Torino Ronaldo pure lui Di solito gli do 5 Quando fa cose del genere Nonostante anche segna Però gli do 6 Non voglio essere cattivo con lui Alla fine anche se è un buon Bastanza culo segna Però dal momento in cui La Juve non stava vincendo in poi Perché all'inizio non si leggeva in piedi Poi dal momento in cui La Juve stava vincendo in poi Si è caricato anche lui Insieme a Chiesa La squadra sulle spalle E questo comunque Va sottolineato Quindi buona prestazione di Ronaldo Che almeno Per uno come lui Che prende 100 milioni l'anno Mi aspetto Quindi bene 6 per lui 4 e mezzo per Morata Quanto cazzo Pesa quel contropiede A campo aperto Alla fine Sprecato all'ultimo respiro Ragazzi Cioè veramente Una cosa incredibile Morata non si legge praticamente in piedi Devo capire Se non sta al 100% Se fa schifo lui Ragazzi Se vogliamo rimpiazzare Di bala con lui Io adoro Morata Come persona Ma anche come calciatore Ma è troppo discontinuo Cioè sinceramente Io Morata Un Morata così Non lo riscatterei mai Chiederei semplicemente Un riscatto Un Come si dice Un Uno Diciamo una riduzione Del costo all'atletico Uno sconto Ramsey Io non lo so Lo venderei pure a 0 Cioè abbiamo preso a 0 E lo vendiamo a 0 Ragazzi Perché veramente Entra Dovrebbe far provare A fare la differenza Inventare qualcosa Ma niente Non si fa vedere Ma io non lo so Potersi che non ci capisco Di calcio E fa lavoro sporco Ma Ramsey Quando entra Per provare a cambiare La partita Invisibile Fa peggio di quello Che poi Cambiare Ramsey Per Danilo Danilo fa meglio di Ramsey In ogni ruolo 6 per Bernardeschi Alla fine Lui in nazionale Si diceva Che poteva giocare Falso a 9 Può giocare Alla sinistra Alla destra In nazionale Alla Juve Fa esterno a sinistro E terzino a sinistro Non gioca praticamente Più a destra E intanto Si porta a casa Un 6 Perché comunque Entra a terzino a sinistro Per spingere Ok Chi ha simulato Se prese pure la multa Mentre all'autaro Quando lo fece con noi L'autaro in Coppa Italia Non fece niente Non feceva niente Però Entra E diciamo che Sicuramente Meglio dell'Alexandro Fa Non che ci voglia un genio 5 per Pirlo Non capisco questa cosa Di voler sempre fare Il 4-4-2 Sempre con le stesse cose Alla Juve Aveva bisogno Di una rivoluzione Lui un allenatore Troppo inesperto Per farla Certo è che Se si trova lì Di certo uno Non rifiuta la Juve Però Pirlo Inizia anche Ad avere un po' di colpe Pure tu Avevi 14 giocatori Alla mano Quindi hai tutte Le attenuanti Di questo mondo Ma continui a fare Sto cazzo di 4-4-2 Basta Ci siamo rotti I coglioni tutti Il gioco è troppo monotono E troppo semplice Andava bene dieci anni fa Ora 4-2-3 E via Detto questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Mi dà lasciare un mi piace Caso di contrarre Non mi dislike Commenta se siete d'accordo Se siete d'accordo Se siete d'accordo con me Se non l'avete ancora fatto Iscrivete al canale In descrizione Il link per sicuramente Su Instagram Damo uno spartizzato E tutto E noi Ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi